salve a tutti hola hola buonissima sera benvenuti in un'altra splendida serata che passiamo insieme datemi conferma che mi sentite che mi vedete bene magari scrivendo nei commenti che tutto funziona correttamente oggi come ogni mercoledì al 21 sono sempre qui in diretta per intervistare maggiori esperti italiani di crescita personale spirituale sono degli incontri interattivi quindi in qualunque momento della serata qualunque condivisione senti di fare o domanda che senti di porci fallo pure nei commenti siamo super felici di leggerti di risponderti mi conferma che ci sentite bene magari scrivendolo che meraviglia e anche stasera ho un altro ospite molto speciale che è il professor franco fabbro medico neurologo accademico e ricercatore scientifico quindi diamo il benvenuto al professor franco ciao che bello grazie per essersi unito a noi in questa diretta è un super piacere essere insieme stasera per chi non la conosce io faccio una leggerissima introduzione oltre a essere laureato in medicina specializzato in neurologia lei ha avuto anche una formazione in filosofia esserci biblica neurofisiologia neurolinguistica neuropsicologia quindi tanti diversi tante diverse discipline è professore universitario anzi ho appena scoperto che lo è stato fino a un mese fa è autore di una ventina di libri a carattere scientifico centinaia di lavori scientifici su riviste italiane e internazionali nelle sue attività di ricerca ha approfondito appunto molto tutti questi argomenti legati alla neuropsicologia della religione rapporto tra neuroscienza e meditazione le neuroscienze della memoria della coscienza la storia delle religioni rapporto tra malattie spiritualità quindi veramente in questa diretta andremo proprio a sviscerare un po' alcuni di questi argomenti approfitterò delle sue conoscenze per farle un po' di domande su tutti questi temi appunto neuroscienza e spiritualità cervello e meditazione onde cerebrali esperienze mistiche un po' andiamo cercherò di farmi alcune domandine per andare un po' per quello che si potrà andare in questa serata e queste un po' più a fondo in questi argomenti direi di andare direttamente al punto mi piace trarre il massimo da questi incontri e mi piacerebbe iniziare dal principio cioè come dicevo prima lei ha studiato no tantissimi campi diversi sono molto interessanti però sono anche diversi tra loro sicuramente sinergici e è riuscito anche a fare un po' delle connessioni no tra tutti questi tra tutti questi campi ma queste discipline se ci può raccontare un pochino della sua storia cosa l'ha spinta a studiare così tante appunto anche discipline diverse ad approfondire le religioni la spiritualità la meditazione da un punto di vista scientifico però cosa interessante no questa ricerca che le ha fatte ma guardi io ho iniziato diciamo gli studi delle superiori in ambito scientifico no le mie superiori sono state si mediamente avevo circa 30 ore 20 25 30 ore di materie fisiche fisica termodinamica e ero avviato per una carriera di ingegnere aeronautico e sono andato nel 1974 un periodo in a torino all'aere italia dove si costruivano aerei militari gli f 104 in quel periodo e in questi mesi di diciamo di lavoro e studio ho visto se il gli effetti di una industrializzazione spinta perché torino negli anni settanta era il massimo della dell'industria italiana industria aeronautica e ho avuto diciamo una sì un'impressione molto negativa di dove è arrivato l'essere umano e quindi ho deciso di spostare il mio interesse verso la filosofia che mi interessava e quindi ho iniziato il primo anno di università facendo la laurea in filosofia e anche ho chiesto di poter frequentare come studente esterno il il corso di un corso di teologia no quindi frequentavo due corsi di laurea e quindi nel 1975 76 mi sono dedicato quindi ad approfondimenti filosofici in particolare allo studio di martin heidegger no e al rapporto tra linguaggio e filosofia e dopo un anno però di questi studi un professore di filosofia mi ha chiesto di parlarmi e mi ha consigliato insomma in questo colloquio un professore anziano di di mi ha detto siccome ti vedo interessato alla filosofia seriamente ti consiglio di cambiare facoltà perché la riflessione filosofica non è possibile svilupparla nel mondo moderno se non si hanno delle competenze o di fisica no quindi mi evitava a fare la facoltà di fisica o di medicina no e allora insomma dopo un po di riflessioni ho deciso di lasciare la filosofia di lasciare la teologia e di iniziare a frequentare medicina però i l'anno quell'anno particolare non è stato speso in vanno perché ho continuato a studiare libri di filosofia costantemente e anche sono diventato amico di un di un insegnante di uno dei maggiori diciamo esperti di esegesi biblica per cui si frequentavo studi medicina dalle 9 alle 5 del pomeriggio dalle 5 del pomeriggio alle 10 di sera continuavo i miei studi di filosofia e poi si ho fatto una test di laurea sul linguaggio no su cosa i linguisti dicono ai neurologi e poi la scuola di specializzazione in neurologia ho continuato ad approfondire la dimensione del linguaggio e al devo dire ancora una cosa durante l'anno di studi filosofici e teologici ha dato l'esame di storia delle religioni e mi è capitato in in sorte perché eravamo in una decina di studenti dovevamo fare un approfondimento su una religione su una società per per sì caso mi è capitato di fare un approfondimento sul buddismo il buddismo zen in particolare e quindi da quel momento ho cominciato accanto alla filosofia agli studi di esegesi biblica no a coltivare la passione l'interesse per il per il buddismo e la meditazione in particolare che diciamo negli anni in quegli anni lì ho frequentato molto no alcune ore al giorno 1 2 ore al giorno e quindi si poi ho fatto laureato e specializzato in neurologia ho deciso di lavorare ho lavorato una decina d'anni in un ospedale e poi sono entrato all'università e circa nel nel frattempo o per esempio nel 95 ho scritto due libri sul mio campo di ricerca accademico il cervello bilingue e un libro nei miei interessi particolari no destra e sinistra nella bibbia uno studio di neuropsicologia e e soltanto quindi nel 2001 terminato la mia carriera accademica sono diventato professore ordinario che il massimo livello e e ho ripreso gli studi filosofici e soprattutto dopo un periodo di di ho fatto il preside di una facoltà quindi molta burocrazia o dopo questo periodo che è terminato nel 2009 o abbandonato si può dire ho messo da parte gli studi sul bilinguismo sul linguaggio e ho ripreso gli studi a pieno gli studi sulla neuropsicologia della religione sulla meditazione e più recentemente ho scritto alcuni libri di argomento filosofico quindi quindi sì o la mia la mia vita è sempre stata condotta su tanti binari questo e quindi sono diciamo un la sensazione interiore quella di uno straniero in qualsiasi diciamo argomento e anche di non sapere perché coltivando tanti argomenti vedo i collegamenti no ma non saprei dire qual è un argomento che conosco bene perché sì un bel viaggio un bel viaggio sì tante discipline bello questo viaggio dagli anni 70 che ha portato poi ad oggi ad approfondire una cosa per l'altra per l'altra per l'altra per ritornare sì come le dicevo nel 2010 ho ripreso gli studi di neuroscienze e spiritualità studi che sono che al tempo e anche adesso sono diciamo non usuali nel mondo medico e nel mondo accademico non vengono visti neanche di buon occhio è sempre i rapporti tra per esempio tra malattia e spiritualità comunque hanno piano piano sì i miei colleghi sia all'università di udine che in italia si hanno mi hanno inteso come individuo bizzarro sì non somma tollerato e mi hanno permesso cinque anni fa di realizzare un master in meditazione neuroscienza che a udine da cinque anni si tiene quindi un corso un piccolo corso che dura un anno però come un corso accademico dove le persone si avvicinano a tutte le tradizioni spirituali collegate alla meditazione certo certo bellissimo bellissimo bello bello mi piace molto diciamo effettivamente interessante anche questo consiglio che le diede quel professore negli anni 70 di farle approfondire anche altri ambiti come la meditazione come la medicina nel caso che l'hai approfondito in questo caso specifico no perché effettivamente comunque il mondo delle religioni ma come le diceva della filosofia o della spiritualità quando parliamo ma perciò quando parliamo di meditazione molto spesso molte persone vedono questi 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 ambiti come aspetti psicologici quindi analizzano ecco appunto le religioni o la meditazione soprattutto da un punto di vista psicologico e quindi l'indagano dal punto di vista della mente invece la cosa interessante che ho noto il suo lavoro è proprio questo di no aver studiato anche questa neuropsicologia e quindi aver indagato no tutti questi ambiti anche c'è un suo libro che si chiama neuropsicologia dell'esperienza religiosa no ed è stato uno dei tanti libri poi lei ha scritto veramente tanti libri su tutti questi argomenti anche tante diverse sfaccettature ecco di questi argomenti però è interessante come soprattutto anche questo campo della neuropsicologia lei è riuscito proprio a analizzare no queste discipline però connettendosi anche a quello che è il cervello il sistema nervoso al corpo anche a come funziona il nostro corpo e non solo da un punto di vista psicologico non so se ci può spiegare un poco meglio cosa è appunto questa neuropsicologia e perché secondo lei ecco questa disciplina è importante per comprendere la meditazione le religioni della spiritualità perché queste neuroscienze sono importanti ma guardi il comportamento religioso e la meditazione può essere intesa come un comportamento spirituale ecco in generale a diversi livelli di studio questi livelli sono per esempio il livello linguistico no se noi ci interessiamo alla meditazione dobbiamo leggere i testi per esempio o induisti no di patangeli nello yoga oppure i testi che si riferiscono al buddha ma questi testi sono scritti in sanscrito quindi noi dobbiamo cercare di capire che cosa intendevano mentre davano delle spiegazioni in sanscrito e guardi che capire che cosa vuol dire la parola ducca no dolore oppure malessere oppure la parola samadhi no osati non è semplice quindi c'è un livello di studio delle religioni o delle tradizioni meditative linguistico poi c'è un livello antropologico perché questi questi aspetti religiosi no accadono in determinate culture no che hanno determinati usi costumi e quindi per affrontarli bisogna conoscere anche il livello antropologico economico anche no sociale no per esempio il buddha era in origine un guerriero no e quindi questo fatto fa sì che tutti i suoi insegnamenti siano insegnamenti rigorosi no di un guerriero di pace no e anche gesù per esempio gesù era un probabilmente un nobile no discendente della casa di davide che si essendo un discendente della casa di davide quindi un potenziale poteva diciamo rivendicare il titolo di re di israele quindi bisogna capire cosa significa re di israele in quel contesto storico culturale antropologico ovviamente sia la religione che la meditazione oltre al livello linguistico antropologico psicologico che ha detto lei c'è anche un livello fisiologico di cui dirò alcune cose subito dopo che ho finito di parlare di questi livelli però la religione collegata anche per esempio alla chimica perché durante un'esperienza religiosa è possibile studiare per esempio la modificazione non solo fisiologica ma anche chimica dei neurotrasmettitori no l'uso di sostanze per esempio in tante tradizioni religiose psicotrope e anche a dei livelli fisici no come si medita se si medita nello spazio no dove non c'è gravità oppure sulla terra non è indifferente quindi è possibile ed è utile affrontare questi argomenti da tutti questi livelli ma nessuno di questi può spiegare tutto no quindi per esempio l'errore di freud era di credere a riguardo della religione che il livello della psicologia clinica permettesse di spiegare la il fenomeno religioso in qualche caso aiuta a capire qualche individuo religioso ma è uno degli aspetti e poi ce ne sono altri c'è quello filosofico c'è quello spirituale quindi il il livello medico neuropsicologico è uno dei tanti e unito agli altri ci aiuta a comprendere meglio il fenomeno come procediamo per esempio negli anni 2005 2006 mi sono chiesto il problema sono fatto la domanda cosa succede della spiritualità delle persone che subiscono operazioni chirurgiche al cervello e la loro spiritualità cresce o cala a seconda della zona tolta no perché lei sa che insomma tante persone purtroppo hanno dei tumori celebranti e quindi bisogna togliere il tumore anche delle zone circostanti e parlando con un neurochirurgo di udine molto competente abbiamo dato origine a una ricerca che è diciamo una delle più importanti che è stata pubblicata a livello mondiale e abbiamo studiato circa 300 persone pazienti a cui sono stati tolti tolti dei pezzi di corteccio cerebrale nella parte frontale oppure nella parte posteriore parieto temporale di tumori molto diciamo aggressivi di tumori benigni no fare tutta una serie di diciamo valutazioni abbiamo scoperto che se c'è la lesione nell'area frontale il paziente diminuisce la spiritualità come i pazienti con parkinson questa malattia abbassa la spiritualità perché la spiritualità è collegata con il lobo frontale e con la dopamina in particolare un neurotrasmettitori invece le lesioni del lobo parietale soprattutto di una struttura del lobo parietale il del lobo parietale destro il giro angolare se questa struttura viene tolta la spiritualità cresce moltissimo quando dice la spiritualità cresce la spiritualità cala cosa intende cioè intende che non ben ci sono dei neurotrasmettitori o come viene analizzata l'esperienza della persona per capire che la spiritualità beh lei sa che la scienza da diciamo che è stata fondata da la scienza moderna da galileo si basa sulla misurazione esatto noi abbiamo diciamo noi parlo dei ricercatori nell'ambito della della neuroscienza messo a punto dei test per misurare la spiritualità quindi c'è un test che si chiama test di temperamento e carattere che ha una parte che riguarda l'autotrascendenza ma ce ne sono tanti altri e quindi noi abbiamo sottoposto questo test prima dell'operazione e dopo l'operazione e dopo sei mesi no e le dicevo che quindi abbiamo visto che c'è abbiamo cominciato a identificare alcune delle zone del circuito complesso della spiritualità e in particolare abbiamo visto quest'area del giro angolare di destra che è collegata con i fenomeni di uscita fuori dal corpo altri ricercatori avevano visto che la stimolazione elettrica di quella zona una stimolazione che deprime l'attività del giro angolare dentro determina nei pazienti durante interventi neurochirurgici pazienti svegli determina la sensazione di uscire fuori dal corpo no che è stata collegata al concetto di anima concetto di anima sembra sia dovuto a questo a una riflessione su questo fenomeno che capita anche alle persone normali in circa il 15 per cento della popolazione e recentemente questo accadeva nel 2010 abbiamo pubblicato il lavoro su una rivista molto prestigiosa che si chiama neuron no le basi in inglese il titolo era le basi neuropsicolo neurologiche della spiritualità mente l'anno no quest'anno con un gruppo di arvar abbiamo diciamo messo insieme tutte le tutti i casi che hanno studiato arvar e i nostri casi e che avevamo studiato a udine e altri anche e abbiamo dato un abbiamo capito un ulteriore punto si abbiamo trovato oltre a questo giro angolare una struttura molto arcaica del cervello dei vertebrati il grigio per acqueduttale fortemente implicata con la spiritualità negli umani però pensiamo almeno io penso che siccome questa struttura è presente anche nei pesci negli anfibi nei rettili anche loro abbiano diciamo una qualche forma di spiritualità che insomma non sappiamo bene come viene vissuta però quindi la spiritualità vede a che vedere per esempio quel centro e concludo quel centro quel giro angolare è un centro collegato con il l'orientamento spaziale e l'equilibrio quindi la spiritualità per esempio si è visto che cresce in funzione del disorientamento spaziale delle persone e invece il grigio per acqueduttale è collegato quella struttura molto arcaica con il piacere del dolore con i centri diciamo arcaici del piacere del dolore perché è una zona dove vengono liberate le endorfine una delle zone dove vengono liberate del l'endorfine e e quindi è collegata con con questi neurotrasmettitori sì che parte del cervello quest'ultima zona che sta descrivendo e quest'ultima zona si trova nel tronco dell'encefalo è una struttura che si trova nel nella porzione posteriore del collo subito sotto il cervelletto la struttura fondamentale per la veglia il sonno il coma quando un paziente entra in coma in generale una lesione in questa struttura diciamo del tronco dell'encefalo e quindi questo è così per farlo un esempio di come si lavora in ambito interessantissima già detto tante cose molto interessanti molto bella anche con la cosa che ha detto all'inizio di come effettivamente per un errore che io vedo fare molto spesso di come a volte è un fraintendimento no perché analizziamo un'esperienza come la spiritualità o le esperienze spirituali solo da un punto di vista è che quello è giusto in effetti interessante definire che è un punto di vista parziale perché è un'esperienza che ha tante sfaccettature come lei dice può essere analizzata da tanti punti di vista non solo punto di vista neurologico non solo da quello psicologico non solo da quello spirituale non solo quello chimico ma probabilmente solo analizzandola da tutti questi punti di vista insieme riesce ad avere forse un minimo quadro più chiaro però è un'idea un'idea sì mi sono dimenticato di dire una cosa importante dal punto di vista filosofico che tutto questo approccio scientifico linguistico antropologico psicologico neuroscientifico chimico e viene chiamato viene detto prospettiva in terza persona ossia è come io guardo un progetto di studio no per esempio io guardo questo paziente misura la sua spiritualità però esiste un altro aspetto che si chiama prospettiva in prima persona è l'esperienza della persona questa non è questa è diciamo possiamo comunicare questa esperienza ma non è studiabile in maniera completa mai quindi questa prospettiva in prima persona è si chiama esperienza ed è fondamentale perché uno si sia un'esperienza spirituale o religiosa va bene può studiarla o analizzarla linguisticamente neurologicamente però per lui avrà sempre una particolare importanza indipendentemente da qualsiasi metodo di studio uno dice ma non capisco bene questa cosa si può dirla in altre maniere per esempio affrontiamo un tema molto delicato la morte e uno può studiare scientificamente la morte di un'altra persona no c'è il paziente che sta morendo noi facciamo l'elettroencefalografia il il l'analisi del battito del cuore noi vediamo che piano piano anche dei film si vede che il cuore smette di battere questo è lo studio della esperienza diciamo di una morte di una persona dal punto di vista in terza persona oggettivo però la persona che sta morendo la vive in un'altra dimensione e quindi questa è la differenza tra esperienza che è la persona che attraversa la vita no e la lascia e chi guarda no e quindi la scienza a lungo ho dimenticato questa esperienza o questa prospettiva in prima persona ma è fondamentale anche nel percorso per esempio meditativo quello che si sta cercando di fare adesso è di se possibile e si è cominciato congiungere le due studiare le esperienze spirituali in prima e terza persona bellissimo bellissimo molto importante no è interessante perché per me è interessantissimo anche perché io in realtà ho fatto un percorso opposto nel senso che io sono giovanissimo ho avuto la fortuna perché mio padre era un maestro spirituale molto famoso in italia c'è un ricercatore spirituale di tutta la vita quindi quello era stato il suo campo di ricerca più nell'ambito di diverse tradizioni spirituali più di stampo orientale però anche diverse altre aveva studiato era diventata insegnante di varie scuole diciamo tre scuole buddiste mio padre era insegnante di tutte e tre e aveva seguito il suo percorso di studio di formazione in quell'ambito io ci sono andato dentro quindi ho avuto questa fortuna di crescere e iniziare veramente che ero un ragazzino a interessarmi a studiare questi argomenti ma soprattutto ecco a dedicarmi alle esperienze in prima persona perché effettivamente soprattutto nella prima parte del mio percorso mi sono sempre interessato a questi temi soprattutto da un punto di vista della meditazione cioè della mia pratica personale perché era quello che facevo e a cui mi dedicavo solo a un certo punto quando mio padre diciamo ha lasciato il corpo quindi ha lasciato questo mondo ed è morto nel 2016 diciamo sei anni fa ho iniziato a quel punto a insegnare diciamo una grande comunità lasciata da mio padre e ho iniziato a quel punto a insegnare e lì ho iniziato invece a rendermi conto di quanto anche importante come quello che lei sta dicendo no di studiare questa esperienza anche in terza persona perché in prima persona comunque rimane soggettiva c'è la tua esperienza quando però giustamente mi sono ritrovato a sbatter la testa no con le difficoltà i problemi anche la le necessità di ogni singola persona che sono differenti no di comprendere di capire anche la necessità che abbiamo un occidentale come le diceva all'inizio no di capire veramente questi argomenti ecco cosa significano questi termini perché funzionano certe tecniche certe meditazioni perché dobbiamo farle noi come occidentale abbiamo bisogno di avere anche forse anche di più degli orientali io ho notato nella mia esperienza che come se a volte sono un po' più istintivi più di cuore di noi più istintivi più ecco su questi argomenti mentre noi abbiamo molto bisogno no di avere chiaro prima quello che stiamo facendo prima di farlo e là ho iniziato a divorare un sacco di studi di ricerche e a lavorare anche con vari scienziati di diverse discipline per capire veramente bene come funzionano certe cose perché funzionava no perché prima io le facevo praticavo non mi chiedevo perché funzionassero le cose i miei maestri mi dicevano di farle io le facevo e funzionavano lo vedevo nella mia esperienza no è ero un po stile orientale sì io penso che noi in occidente dobbiamo senz'altro in questi cammini coltivare la pratica e però dobbiamo anche essere consapevoli degli aspetti sì perché scientifici perché l'occidente è la culla del pensiero critico no possiamo dire e poi anche secondo me è importante anche la dimensione umanistica no gli studi linguistici storici e quindi è da questi insieme per esempio il master di cui le parlavo di meditazione neuroscienze è un master che si in cui viene dedicata molta attenzione agli aspetti scientifici umanistici e alla pratica no è anche un altro aspetto che mi deriva dalla dall'interesse per le lingue no che originario è uno degli interessi originari no io mi sono reso reso conto a un certo punto che le religioni sono come le lingue no e che non ce n'è una migliore di un'altra no in alcune lingue si dicono meglio certe cose in altre si dicono meglio altre cose e che nel mondo per sviluppare tolleranza e capire gli altri bisogna conoscere se è possibile molte lingue e così anche molte tradizioni religiose no quindi il master che abbiamo fatto a udine e ecumenico no sono meditatori cristiani gente che si ha fatto ricerca ma anche pratica cristiana islamica buddista induista insomma e quindi anche questo è anch'io io ho seguito tradizioni religiose di sì per vedere le esperienze religiose le ho viste in diversi contesti sì sciamanesimo e islam no la vita gli islami ovviamente sono più collegato con le pratiche sì con l'insegnamento del buddha ecco diciamo con soprattutto la meditazione consapevolezza bellissimo torniamo all'argomento ciò di cui stava parlando prima mi sarebbe andare un poco più in profondità in cui di quello di cui stava parlando cioè appunto con ciò che avviene nel cervello quando si fanno quelle appunto quelle esperienze mistiche che possono avvenire con il tempo seguendo qualunque autentico percorso spirituale religioso praticando la meditazione mi riferisco a quello che viene chiamato magari anche risveglio spirituale o le esperienze fuori dal corpo di cui parlava prima o l'illuminazione l'agnosi incontro col divino no tanti termini diversi che vanno a descrivere quel questa e tanto questa sfaccettatura di tipologia quello ventaglio di esperienze spirituali che si fanno lungo un percorso studiando questa esperienza dal punto da punto di vista scientifico umanistico come lei la studiate e anche le altre diverse discipline che approfondito quali conclusioni arrivato cioè secondo lei cosa accade nel cervello durante questa esperienza nel modo più semplice possibile so che non possiamo andare a all'infinito ovviamente in questa serata però quello che si sente di condividere con noi stasera ma guardi se uno vuole diciamo vedere un po che le mie opinioni a riguardo può leggere il libro neuropsicologia dell'esperienza religiosa che ormai a 12 anni ma insomma sostanzialmente affronta questo discorso no però potrei rispondere alla sua domanda diciamo usare un po se vuole la metafora del cammino che ha indicato il buddha no secondo me il buddha è stato una grande psicologo e anche uno dei più grandi educatori perché è riuscito a indicare la strada in una maniera secondo me semplice e lui sostiene questo no per ottenere la liberazione no che è necessario riconoscere alcuni aspetti no e seguire lui parla di un ottuplice sentiero no e otto passi no e i primi cinque possiamo dire quattro cinque sono dei passi etici no non è possibile secondo me avere una una diciamo raggiungere un obiettivo spirituale profondo e duraturo se non si aderisce a una visione etica minimale insomma no e poi dice che oltre quindi questi sono i primi cinque passi gli ultimi tre passi riguardano le tecniche più e le in particolare indica che ci sono come forme di liberazione quindi si devono praticare delle tecniche meditative che lui ha insegnato e la due in particolare sono interessanti una è la pratica di la meditazione di consapevolezza che si chiama sati in in sanscrito e la l'ultima è la meditazione che si chiama di meditazione unitiva che si chiama samadhi e allora per esempio la le vie le vie induiste privilegiano il samadhi samadhi è praticamente abbandonare la coscienza individuale per raggiungere una coscienza l'uno insomma e che ovviamente è una cosa fondamentale no superare la dimensione egoica eccetera però il buddha sottolinea che questo percorso se non si è fatto il lavoro sulla pratica di consapevolezza può produrre quelli che vengono chiamati i diciamo gli illuminati nevrotici delle persone sì che non hanno hanno raggiunto un alto livello ma non sono sufficientemente purificati quindi la meditazione di consapevolezza è una strada fondamentale secondo lui e anche secondo me e questa meditazione di consapevolezza non è solo diciamo una pratica quindi della meditazione ma è un la meditazione di consapevolezza e sostituire abitudini negative o problematiche per la persona con abitudini positive ovvero con la consapevolezza no e questo significa lentamente modificare la personalità è possibile ottenere delle esperienze spirituali anche senza fare questo lavoro certo quindi per esempio un'esperienza di kundalini una una un viaggio sciamanico e però se non quindi un'esperienza di una meditazione unitiva ecco è possibile anche senza questo lavoro però il risultato che si ottiene non è quello secondo me non è l'obiettivo non si è centrato l'obiettivo e si sono visti tanti per esempio illuminati i nevrotici nella nella storia sia occidentale che orientale quindi la il percorso è complesso sicuramente è fatto in questa maniera di lavoro su di sé no e di di un minimo di di attività etica e poi il 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 balzo noi abbiamo studiato nel libro neuropsicologia dell'esperienza religiosa più cosa succedeva nel cervello durante questi momenti di di unione al tutto ecco e sono stati studiati sì in vario modo no soprattutto sì perché ci vuole anche per questi aspetti una ricerca no per esempio william james uno psicologo del che vissuto fino nei primi e morto nei primi anni del novecento uno dei più importanti ha scritto un libro varietà delle esperienze religiose e ha indicato la strada degli studi neurologici era un neurologo anche lui oltre che psicologo eh di fatti la prima primo capitolo intitolato neurologia e religione e lui per esempio usava il protossido d'azoto no e ha descritto molte esperienze spirituali che aveva provato lui eh le ha messe in incognito eh sotto l'effetto del prodossido d'azoto io nel mio libro ho descritto due o tre esperienze personali e religiose senza l'utilizzo di sostanze però sì per raggiungere mi sono dovuto impegnare alcuni anni ecco certo certo e comunque non ero ancora e non sono ad un livello diciamo di purificazione personale per raggiungere l'obiettivo in maniera sì completa come immaginiamo abbia raggiunto probabilmente il Buddha ecco il Buddha che il Buddha significa colui che si è risvegliato insomma certo 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 interessantissimo interessantissimo sì sicuramente vado vado è una discussione generale poi ci sono ci sarebbero aspetti tecnici diciamo su però è come la vedo io quindi il percorso secondo me va fatto in quattro direzioni una direzione è il minimo quel minimo di diciamo comportamento etico dei primi quattro poi c'è il sostituire le abitudini negative che sono alla base della costruzione dell'io e dell'ego queste abitudini vero noi da piccole abbiamo imparato a reagire diciamo desiderando odiando oppure non prestando attenzione alle cose ecco quindi e questo si fa attraverso la secondo il Buddha attraverso la pratica la meditazione di consapevolezza e poi ci sono i sì la il percorso del samadhi e che sì l'ultima tappa e insomma è anche l'uso del samadhi no perché per esempio per il Buddha le persone dovevano cercare di addestrarsi a raggiungere uno dei primi due o tre livelli di samadhi e praticare la meditazione di consapevolezza in uno stato di samadhi interessantissima importante quindi questo è un po la mia idea poi se uno se uno poi l'esperienza religiosa si è visto può capitare del tutto in maniera inaspettata a chiunque certo certo a chiunque no e ci sono delle persone che non hanno fatto nessun percorso e sono arrivati no magari fanno i pastori no sono sempre nella natura fanno insomma non è non è perché sì l'arrivare è una è un sì un sentire interiore oltre che un vissuto esteriore certo beh oltre certo comunque fare l'esperienza è diverso da stabilizzare l'esperienza poi in ogni momento ed è sicuramente anche esistono tanti stadi diversi di quell'esperienza però sì è vero alla fine come si dice spesso nelle tradizioni spirituali una grazia a volte non se neanche perché accade però sono quelle quelle cose che lì entri in un ambito che è difficile da spiegare ecco entri però dobbiamo non dobbiamo metterla secondo il cristianesimo di paolo no che la liberazione è data dall'alto no certo lavoro è un lavoro individuale no qualcuno può avere diciamo la grazia qualcuno ma è meglio lavorare no certo certo no vabbè ma è ovvio è ovvio anche perché comunque come dicevo prima non significa niente tante persone appunto fanno quell'esperienza ma anche appunto guardi il momento di un rapimento estatico sei in un'esperienza estremamente coinvolgente entri in uno stato effettivamente alterato a volte di coscienza ma non è quello cioè quello è comunque è un primo stadio di quell'esperienza cui si può andare sempre più in profondità bisogna dire anche una cosa che l'esperienza religiosa ha molti punti di contatto con la dimensione sessuale di contatto e diciamo la sessualità e la spiritualità sono collegate una buona sessualità penso io non è possibile senza anche un percorso spirituale perché per esempio l'esperienza di abbandonarsi che tipica della dimensione spirituale è anche fondamentale nella dimensione sessuale per esempio il controllo il controllo non permette di vivere in maniera diciamo armonica equilibrata piena questa dimensione per cui anche questo sì questo è un altro filone di interesse e ci sono tradizioni spirituali che lavorano in un abito sessuale no sì 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 assolutamente assolutamente bello 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 io approfitto ancora un momento delle suoi conoscenze le faccio una domanda un poco un po buffa approfitto appunto di essere qui insieme stasera andiamo appunto poco più in profondità ancora in quest'ultimo punto che a lei giustamente sia come samadhi come lo descrive il buddha è nei tanti stadi che ci sono di questa esperienza ecco di questa esperienza spirituale diciamo le esperienze più spirituali un po più profonde ecco senza entrare sempre di più stati di coscienza sempre più profondi diciamo appunto questa la piena illuminazione spirituale quella che probabilmente aveva realizzato il buddha quella proprio la completa illuminazione spirituale che è la vetta alla fine di ogni autentica tradizione spirituale non è sicuramente un fenomeno solo psicologico appunto come dicevamo prima ma è un fenomeno che convolge l'essere umano nella sua interezza no perché trasforma anche il nostro corpo il nostro cuore la nostra mente quindi devo aprire il nostro cervello la nostra coscienza no e le tradizioni spirituali lo chiamano in modo diverso io sto riferendo a stati quelli proprio più profondi più profondi nella zona in malayana spesso lo chiamano il corpo di luce o i tibetani lo chiamano appunto il corpo d'arcobaleno i taisti il corpo del dragodoro no prende tanti nomi diversi soprattutto nella zona in malayana però ci sono parallelismi con tante altre tradizioni spirituali anche non di stampo orientale sulle ande peruviane lo chiamano il corpo dell'inca però in essenza quando lo descrivono è proprio la stessa cosa ed è uno stato questo stato psicofisico un po in cui si si sembra quasi che si sprigioni un po al pieno potenziale dell'essere umano in questo stato e ci si libera no come dicevi come diceva lì prima ci si libera un po anche da questi confini dello spazio del tempo ci si diventa immortali scrivono alcune tradizioni spirituali no però la piena illuminazione spirituale è che in questo stato avvengono anche tanti fenomeni fuori dall'ordinario che nelle tradizioni spirituali vengono descritti no come effetti collaterali della pratica quindi anche si manifesta effettivamente a tanti livelli questa realizzazione io diciamo per esempio alcune tradizioni spirituali no dicono addirittura che si arriva a mettere letteralmente luce dal corpo una direzione di che ero dice se tu non emetti effettivamente luce dal corpo non sei pienamente illuminato questa è una tradizione antichissima sono derivata agli inca con un ambito di soprattutto le ande peruviane il però loro hanno questa descrizione che è molto interessante preconcide con molti punti per esempio della via del bodhisattva nella tradizione buddhista mayana però è anche interessante c'è tanti altri fenomeni che le tradizioni spirituali descrivono no appunto come effetti collaterali della pratica io ho avuto la di avere veramente dei grandi maestri in questa vita dei maestri e ho avuto dei buoni maestri e ho assistito anche a tanti fenomeni fuori dall'ordinario mi piacerebbe un attimo discutere con lei così ma proprio chiudere questa serata con anche chiederle un parere fare qualche riflessione su questo ho avuto anche la fortuna di viaggiare mesi con questi maestri di invitarli in italia hanno dato dimostrazione anche a diverse centinaia di persone come per esempio il movimento di oggetti a distanza che in alcuni casi ho assistito realmente a un grado a diversi metri di distanza per esempio di muovere una bottiglietta d'acqua che è enorme un gran alto quantitativo di energia che ovviamente era voluto fuori con la pratica o in altri casi per esempio polvere o cenero appunto sostanze molto fine molto leggere tramite appunto la vicinanza con il campo elettromagnetico in qualche modo usciva dal corpo di questo maestro iniziava a roteare quasi come un vortice no comunque si iniziava a roteare a muovere in questo in questo modo o in grado magari no di emettere così tanto calore con le mani perché si produce così tanto calore nella pratica da accendere un fuoco letteralmente la mano inizia a fumare è un pezzo di carta accende effettivamente prende fuoco o separare la pietra no per esempio che è diverso dalle tecniche di rottura che sono molto di stampo cinese nell'ambito taoista vanno molto però per esempio visto questo maestro prendere un blocco di marmo reggerlo in concentrare molto l'energia all'interno e poi separarlo quindi non come una rottura ma letteralmente separarlo perfettamente a metà cose di questo genere giusto per fare capire non so se ho mandato alcuni video in uno c'erano proprio alcune dimostrazioni di questi fenomeni se vuole gliele faccio vedere perché ce l'ho forse non riesco pure a farlo vedere adesso un momento poi ci ritorniamo però sono diversi video registrati in italia davanti a centinaia di persone di fenomeni di questo tipo argomenti comunque studio mi interessano molto se vuole le posso far vedere anche adesso e poi continuiamo a parlare come vuole lei sì non c'è bello sì questo è un vediamo cosa c'ho ho a forse qua a disposizione ho un video che viene da una tradizione sotto in ambito taoista si chiama nei qigong quindi un ambito di stampo più nell'abito cinese del taoismo quindi di pratiche energetiche questo video nello specifico che ho qua al momento già poi ho avuto anche diversi altri maestri vediamo prima questo video poi continuiamo a parlare va bene un momentino è brevissimo e dura durerà veramente pochi secondi grazie a tutti grazie a tutti la musichetta di sottofondo ma guardi diciamo il bisogna sì per affrontare questi argomenti avere le competenze studiare le cose in maniera diciamo sistematica io non non ho particolare esperienza di questi studi no quindi posso dire una cosa che diciamo parecchi degli insegnamenti anche psicologici che budda ha dato derivano dalla e anche di tipo cosmologico dipendono dal dalle sue visioni e devo dire che sì la gran parte sono corrette no e quindi come abbia raggiunto queste conoscenze ecco per me è un potrebbe potrebbe essere un esempio di queste capacità che si ottengono una volta raggiunti alti livelli spirituali e tuttavia volevo dire una cosa noi no lei fa questa domanda a un ricercatore quindi io se fosse interessato mi metterei a studiare analizzerei e vedrei di tirare una conclusione deve sapere che noi no a livello parlo scientifico sappiamo molto poco l'idea che la gente ha della scienza è secondo me per gran parte mediamente sbagliata la scienza è un insieme di teorie di racconti no sottoposti a verifica a diciamo possibilità di essere cambiati no soprattutto in base agli errori ma non c'è nulla di definitivo non la scienza è la il luogo dove i dubbi diciamo si accrescono di giorno in giorno il resto è religione degradata no quindi io non sono contrario a nulla tutto merita di essere indagato e approfondito perché noi sappiamo molto poco da un punto di vista della materia sappiamo molto poco della chimica molto poco della della biologia e quindi molto poco anche dell'universo non parliamo della psiche sappiamo quasi niente e quindi secondo me tutto è possibile certo ci sono anche dei fenomeni di suggestione di no bisogna quindi analizzarli e però io non sì il la scienza ordinaria è più sopranaturale del sopranaturale quindi l'atteggiamento infatti penso che l'atteggiamento religioso sia quello autentico di una persona che sa di essere di fronte al mistero anche scientifico anche ovviamente questi discorsi che faccio non piacciono a chi ha una visione mercantile del mondo no della scienza usa la scienza per fare affari oppure usa la scienza per governare o diciamo reprimere non è così la scienza non ha non ha si si nutre del dubbio e delle domande e quindi queste sono domande interessanti molto interessanti che vanno a che si dovrebbero approfondire che se invece di dedicare energie per distruggere soldi sarebbe bisognerebbe dedicare energie per questi ambito però l'ambito spirituale religioso non non è come le dicevo immediatamente nelle università nelle strutture statali sono interessate a che venga studiato per vari motivi quindi e quindi e quindi e però devo dire una cosa che senza l'approfondimento di questo settore la medicina guarderà gli esseri umani come delle macchine che gli esseri umani non sono delle macchine quindi non non diciamo indagare il lato spirituale religioso anche psicologico così esistenziale è un danno per 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 tutte le persone perché noi abbiamo bisogno di una un modo di curare le persone nuovo no dove tutta la tecnologia tutte le i farmaci che sono utili vanno impiegati non c'è da togliere nulla ma c'è da aggiungere questo settore no quindi perché senza un significato le persone non guariscono quando si ammalano certo no quindi è un è un salto che dobbiamo fare no e anche capire che si come le lingue e questa è una cosa un po' difficile no nel soprattutto nel mondo occidentale che pensa per ragione solo lui capire che le tradizioni spirituali come le lingue devono essere praticate conosciute insieme non ce n'è una migliore di un'altra ognuno di noi ha la sua tradizione linguistica e spirituale collegate con la lingua madre la religione da cui proveniamo però non mettiamoci dei panni degli altri non è migliore di quella ci sono dei lati positivi negativi limiti quindi questo è il mio pensiero e quindi sì avremmo bisogno di si indagare queste c'è sicuramente indagare finché non si non abbiamo indagato non è possibile dare un giudizio io comunque sono sì se una di queste cose le vedo mi interessa sì sono disponibile a lavorarci a fondo sì sì no sarei sarei onorato di poter lavorare insieme a lei in futuro piccolo su questi argomenti anche appunto fare uno studio scientifico accurato su tutti questi fenomeni ovviamente io non sono uno scienziato non ho le competenze per comprendere ecco come diciamo prima a 360 gradi queste esperienze io vengo da quel mondo quindi è quello il mondo che conosco e questa è una delle cose che l'ho fatta vedere adesso ma ne conosco tante di quest'ambito ripeto ho avuto la fortuna gli ero comestri anche tipo a me piace definirli come dei dinosauri una razza in via di estinzione di questi maestri che sembra quasi che vengono da un'altra epoca di cui forse ne esistono si possa contare sul palmo di una mano quelli che oggi esistono veramente di questo tipo quindi assolutamente fare uno studio scientifico di questo tipo sicuramente aggiorneremo sì sì non dico con il sottoscritto sì in generale certo no 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 certo certo no no capisco la vita diciamo ha dei limiti è naturale però sì ritengo per esempio la capacità di muovere un oggetto a distanza probabilmente collegato con fenomeni legati alla gravità di cui noi per esempio la gravità non sappiamo granché perché se lei va a fondo no e cerca di capire che cos'è questa gravità e che effetti ma ma non solo che cos'è la materia che cos'è la psiche noi abbiamo delle teorie molto limitate su queste cose no purtroppo qualche volta diciamo agiamo no credendo di sapere più di quello che sappiamo e facciamo sì creiamo dei problemi ecco bene 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 molto interessante molto anche questa appunto visione anche delle tradizioni delle tradizioni spirituali di come sono sinergiche una all'altra no che non significa saltare da una all'altra ecco da un percorso all'altro come diceva prima avere un proprio percorso è anche completare ogni percorso cioè andare a fondo in ognuna di queste perché altrimenti si rimane in superficie però andare in profondità sicuramente si scopre anche ogni magari ogni diversa tradizione spirituale come diceva prima approfondito diversi aspetti e anzi è andata più in profondità no diversi aspetti del percorso spirituale si fare la stessa esperienza di una persona che conosce due o tre lingue diventare si plurilingue pluri interessato alle tradizioni spirituali due o tre come ha detto bene dai io consiglio di riascoltare questa intervista domani quando verrà pubblicata la registrazione perché veramente ci sono tantissime informazioni di valore io la ringrazio professore per tutte le informazioni interessanti che ha condiviso con noi stasera direi che stiamo arrivando alla fine abbiamo fatto una buona ora le chiedo come si fa seguire il suo lavoro a restare in contatto con lei c'era una persona prima che chiedeva dove tiene il suo corso accademico il master di cui ha parlato all'inizio il master si tiene all'università di Udine però diciamo che sto pensando a una diciamo a come insegnare delle cose in una maniera un po' diversa usando magari una tecnica online però perché penso che si sia perduto il diciamo il modo di insegnare profondo che esisteva nell'occidente che io ho avuto la fortuna di avere da uno o due di questi non maestri come i suoi ma maestri di sapere occidentale e quindi vorrei prima di andarmene dall'altra parte lasciare qualche qualche treme insomma qualche trasmettere ecco quindi però poi i libri soprattutto i libri per esempio questa visione della della lingua e delle tradizioni religiose si trova nel libro identità culturale violenza no neuropsicologia dell'esperienza religiosa abbiamo già detto se qualcuno vuole vedere le mie idee sulla meditazione ho scritto un libretto nel mulino la meditazione mindfulness ma diciamo se uno invece vuole impegnarsi in cose sistematiche sui rapporti tra scienza spiritualità e allora può leggere gli ultimi due libri che cos'è la psiche no? ricordiamo che il Buddha ha detto che tutto quanto importa tutto quanto importa diciamo nel mondo accade nella psiche no? e quindi bisogna conoscerla questa psiche e quindi c'è questo libro oppure un ultimo libro un po' più divulgativo no? i fondamenti biologici della filosofia ecco però in futuro come le dicevo vorrei sì inaugurare un po' questa strada adesso sto pensando come di una via diversa dall'università per lasciare delle idee e discutere insieme eh non solo non solo insegnare no discutere insieme bellissimo bellissimo molto bello complimenti allora sì comunque nell'ora di nell'era di internet trovarla penso sia molto facile basta cercare fancofabro cercare sui libri eh il suo sito è fancofabro.it appunto dovevo già apparire anche qua eh per comodità quindi lì c'è anche informazioni dei libri quindi sicuramente puoi restare in contatto bisogna dire nell'epoca di internet questo è molto facile restare in contatto sì sì abbiamo imparato delle cose sì no non solo in contatto ma anche in contatto sì non proprio bisognerà lei avrà anche contatti reali ma oramai si può no si può diciamo parlare con non solo nella propria città o nella propria regione questo sì metodo ci permette di sì stare insieme anche in un territorio molto vasto come quello dell'Italia poi ogni tanto dovremmo certo per per meditare praticare bisogna anche sì conoscersi insomma assolutamente alcune cose ci vuole di essere di persona importante sì sì assolutamente assolutamente molto bene veramente io la ringrazio ancora professore per tutte le informazioni interessanti grazie a tutti anche per essere stati con noi questa bella oretta che abbiamo passato insieme stasera eh è stato un piacere avermi come ospite in questa diretta eh io vi ricordo che ogni mercoledì alle 21 sono sempre qui in diretta per intervistare i maggiori esperti italiani di crescita personale e spirituale eh buonissima serata a tutti ci vediamo mercoledì prossimo eh ciao ciao